Altre due vite si sono spezzate sulla Cilintana. L'impatto mortale si è verificato ieri sera intorno alle 23 all'altezza dello svincolo di Centola. Ad avere la peggio Giuseppe Montano Esposito, 52enne di Montano Antiglia, al volante della sua Audi A4 e il 41enne di Lentis Cosa, deceduto durante il trasferimento in ospedale, Antonio Bellucci, che al momento dell'incidente si trovava a bordo della sua Mercedes classe C, in compagnia del fratello Raffaele, 26enne, rimasto ferito gravemente e per questo ricoverato al San Luca di Vallo della Lucania. Solo per miracolo nel drammatico sinistro non sono rimaste coinvolte altre persone, tra queste l'assessore provinciale ai lavori pubblici Attilo Perro, che per evitare l'impatto ha tentato una manovra azzardata, finendo fuori strada, ma così è scampato a quello che poteva essere, anche per lui, un drammatico epilogo, proprio mentre rientrava a casa a Rocca Gloriosa, dopo aver appreso parte ad un convegno a Roscinio, dove si era appena discusso di sicurezza e viabilità. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Sapri, guidati dal capitano Emanuele Tamorri, a provocare l'impatto sarebbe stata l'Audi guidata dalla 52enne di Montano Antilia. Prima di andarsi a schiantare frontalmente contro la Mercedes su cui viaggiavano i fratelli Belluccio, infatti pare che l'Audi avesse già tamponato altre tre vetture e preso di striscio l'auto dell'assessore provinciale. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni agli inquirenti, l'Audi già da un po' procedeva con un'andatura zigzag sulla Cilentana, invadendo più volte la corsia opposta. Testimonianze che lascerebbero spazio a due ipotesi precisi, o il malore improvviso o peggio che Giuseppe Montano Esposito, fino a qualche tempo fa gestore di un noto locale di Palinuro, si sarebbe messo alla guida della sua auto in stato di ebrezza. Ma come detto, queste al momento sono soltanto ipotesi. Toccherà alle forze di polizia e al medico legale Adamo Maiese, che in mattinata ha eseguito gli accertamenti sui decorpi, stabilire e dare risposte certe. Le due salme, immediatamente dopo gli accertamenti medico-legali, sono state restituite ai familiari per l'ultimo saluto. Un tragico accadimento che, al di là delle eventuali responsabilità, ha diffuso su tutto il Cilento un profondo senso di tristezza e ha reaperto una ferita mai chiusa, quella che purtroppo racconta di una lunga scia di sangue sulle strade a sud del capoluogo e in particolare sulla Cilentana, vittime i figli di una terra troppo spesso dimenticata.